Perchè lo facciamo? Dove stiamo andando? Perchè? Dove? Uh, che c'è? Siamo a Parigi! Appunto, perchè non ci fermiamo e ce la godiamo! Troppo moderno, troppo vuoto, troppo turistico Le tue ginocchia sono andate? Non ancora Che ci fate qui a Parigi? Bello! È il nostro anniversario di matrimonio Finalmente avrete tempo per stare insieme Sta zitto! Idiota! Mi fai imbestialire come nessun altro! Segno di un profondo legame! Quando i figli se ne vanno, cosa rimane di noi? Beckett scrisse intendiamo amore quando diciamo amore? Che altro intendiamo? Che stupidaggine! Cavolo! Oddio, Nick! Non puoi amare e odiare la stessa persona Fa un male cane! Puoi farlo solo per cinque minuti per quanto mi risulta Ti prendo! Secondo me ci siamo divertiti moltissimo Le persone non cambiano Invece sì Possono peggiorare Le piaccio, monsieur? Il cozzo è molto caro Prendi il cappotto Non dirlo ai ragazzi Nick Barros Che ho sorpreso ieri a baciare una donna appassionatamente per strada Ha affermato che quella donna era sua moglie Al futuro Droga Sesso Divorzo Morte Ah, Parigi Come si può vivere Trove Ano il tuo Fammi provare un'altra volta e ti prometto che sarà più divertente Quindi Non succedere Allora 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 Grazie a tutti